ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale questo oggi continueremo yakuza kiwami allora ci siamo lasciati in una zona un po pericolosa diciamo ci stavano inseguendo in macchina e adesso dobbiamo sparare ok quindi ricarica e spara ok l'etai rallenta l'azione ok perfetto vabbè com'è la stessa tecnica dell'altro diciamo ok carichiamo i che so ah ricarica pum no oh tutto pum ah no eh vabbè lo sta proteggendo la macchina però no oh sì che cazzo c'è ma zucca ah no Ah sono riuscita E' che cavolo No devo puntare a lui proprio Ok No Ah ma ho colpito l'autista e quindi sono morti tutti e due Oh oh L'altra volta c'era l'elicottero Stavolta Ah il tir Bene Ah 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 che cavolo Che cavolo è difficile eh Ho sparato Oh mi avete rotto la palla voi due Ah Ah É Ah 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 basta tu morto quanto sei fastidioso oh finalmente adesso c'è un altro bene sto per morire qua eh eh vabbè bella difficile questa missione eh ok basta dai oh dovrei farcela dai ok si sta paracapotare e rotolare please no ah beh direi che di là non passa più nessuno ok ah altra storia ok yuko nishikeyama ah è la sorella voleva ammazzarsi ok ok Guarda, ti chiedevi? Tu ti chiedevi a dire che tu ti chiedi. Ti chiedi, ti chiedi. Ti chiedi anche? Ah no... Tu non ti chiedi? Ah no... Non c'è ancora un po' di Kyrin. Ok, rip. Non c'è l'altro. Basta, avevi errato un po' il cazzo, son d'accordo su questa scelta. C'è un po' il cazzo. Non penso che dimenticherà. Ok, da qui è cambiato, diciamo. Eccolo qua. C'è un po' il cazzo. Non penso che tu non finisca bene alla fine di questo. Capitolo 10 La forma dell'amore C'è un po' il cazzo. Ok, dopo lo guardo. Ah, adesso. Ok, qualcuno vicino a me sta parlando. Beh, magari ha chiesto informazioni al fiorista, non mi è sembrato una persona molto devota, nel senso, se lo paghi penso ti dia informazioni su tutto. C'è un po' il cazzo. 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 Ah. C'è un po' il cazzo. Ah. Reina? Reina Subito Ecco perché sapeva dove chiamare Bravissima Era lei Ecco qua Quindi sta lavorando con Nishiki Ma cosa vuoi fare C'è un'attenzione dopo che la confronti Non puoi mica picchiarla Oppure sì Adesso non c'è più Vediamo un secondo che devo migliorare l'abilità 446 punti Ok Allora Prima di tutto Basta Ok Andiamo Se fiega Sì Il Perry Anche su Yakuza Ok Qualcuno ha combattuto qua Magari è tornata serena e basta Cioè nel senso Nel senso questa cosa Sì Ormai Nishiki è partito E quindi Eh Già Ovviamente La torre del millennium Non poteva non usarla di nuovo Andiamo 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 Sì 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 No Non adesso Minchia Ma vi sembra del momento Aspetta che provavo un po' di tecnica con voi It mod però Perry Doviamo il perere No Vabbè Su Ah Lo posso usare solo in it mod Perché se lo posso usare solo in it mod fa schifo Rb stance Then B When an enemy attacks Ok Ok Fighissimo Ci vuole un tempismo perfetto Però Almeno ha senso usare B Adesso che sono in it mod Figo Teoricamente ho potenzato anche la combo dei pugni No Ok Ci sta Dai Aio Eh Non c'era bisogno Dai Alziate dai Smettete di fare il bambino Aia Bellissimo Sì Il rush è uno dei misteri preferiti Ah Pozzo di sangue Quella Sono là No Non adesso Ragazzi Non mi sembra un momento Magima Aiuto Posso fare anche lui il perri Ah ma è un casino Sì Sì lo posso fare anche a lui Ah Peccato Ho preso anche una nuova abilità No No Non l'ho presa No Non l'ho presa Non tontarmi Adesso mi fissa con questa roba del perri A prendo un botto di colpi Sì Ah no No Vieni Vieni Ah Eh no No Mi affraga niente Delle mie combo Dai Sei morto ormai Ok 130 punti Dai dammi l'abilità almeno No Ok 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 Quanta gente Stavo tornando indietro Che idiota Eh vabbè Anche ma mi ha distorto la realtà Ok Possiamo continuare Allora Stavo andando di qua Quando immagino mi ha attaccato Ok E voi cosa potete dire Magari non è lui che sta perdendo sangue Dov'è Qua Dai ma perché dovete rompermi le palle Cosa vi ho fatto di male Oh 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 e sti pungo lo sei meritato che che e e e e e e e e Perchè? Doveva passare proprio di là? Sembra fatta apposta! Kiryu, Kiryu, sono dei giornali, li puoi schivare. Non adesso, Goro. Vai, andiamo. Sì? Perché? Vabbè, sto arrivando. Beh, sta salendo nel tetto grazie al cavolo che sta salendo nelle scale. Oh oh. Sì? Ciao. Dai, finicela. Ok, apri la porta. Opla. Ho pochissima vita. Ok, come è andato? Ovviamente ne prendo solo uno. Ok, prendiamoci un po' di vita. Eh, come sei violento. Nooo, spreco. Lui sarà un po' lo stile del drago, non lo so sanno niente. Mi dimentico anche della sua esistenza. Oh, ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 oh è figo per carità però non è eccezionale ok ciao ando no kojima ancora questa storia non avete ancora imparato ok abbastanza smooth questo combattimento davvero che avevo il dropkick mi ero completamente dimenticato vieni qua oh Grazie a tutti. C'era un... un coso extra? Ciao. Dai, non c'è bisogno di chiudere la porta. Venite, dai. Oh, oh. Sì, sto arrivando, non preoccuparti. Ma ce l'hai anche tu la pista? Oh, no. Oh, no. Ti spaventato. Scusami, come io salto? Ok. Non so dove tu l'abbia fatto sbattere, però va bene. No, sta facendo la combo. E là. Quanti piani ha questo palazzo? Quanti piani ha questo palazzo? Dai, aprimi la porta. No. Ah, ecco. Allora, apre lui la porta. Tutturiamo anche una pistola. La prendiamo. Eh, no. Eh, no. Tutturiamo quel fucile. Eh, no. Che fratale di morire. Perché hai perso il fucile, scusami? Ogura. Tosto. Non c'è niente da usare per tirare, per picchiarlo. Sboglio. O è lo stile... Eh, basta. Ah. Eh, me è stancato. Ok. Basta. No. Qua stai guardando tu? Ti guarda una pistola? Ah. Così. Un altro palazzo. No. Come? Non può arrivare prima il suo proiettile del mio. Vabbè, ne ha quattro, prendiamo questa. Un po'. Un po'. Ok. E sono tutti morti, adesso. Salto? Eh, no. Fermo. Fermi la tua pistola, che ha più colpi. Aia. Fucile a pompa. Perché dovete farmi del male adesso? Cosa vi ho fatto? No, il mio fucile a pompa. Ah, è vero che la posso sequestrare? Dammi la pistola. Cos'è quella roba? Scusami. Aia. Mi ha punto. Eh, che palla, però. Eh, basta. Ah, simpaticone. Dai, dai, muori. Ah! Ok. Immortale, 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 immortale. È lui. Finito? Ok. Ah, sì. ma non è vero ok i suoi ordini non sono di ucciderti oh oh è arrivato ah hanno ucciso il reina wow mi sa che l'avete fatta incazzare super saiyan super saiyan adesso sono cazzi ha due pistole? si vabbè questo è è mio no no devi andare a fanculo con le due pistole ah fastidioso non permette di mai più è capito boh approfittando se ne oh Max Payne per favore puoi smetterla? cioca fastidioso eh basta hai rotto il cazzo dai capit rotto volino reggina basta oh oh ciao che fastidio basta con quella pistole no no basta con quella pistole che simpatico che simpatico che stai sparando ti sto odiando parecchio sappio perché c'è una moto qua no no devo usare il bel rush ok dopo che spara è vulnerabile l'unica cosa è schivare il proiettile l'unica cosa è schivare il proiettile l'unica cosa è schivare il proiettile non è vero ero fuori dal range sei un bugiardo sei un bugiardo no non vale non vale sei un maledetto bastardo è poi non c'è non ci posso credere che fastidioso no devo usare il rush per forza non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è no ahia no che male ma non vale sta accettando non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è sarei dovuto morire è che ho fatto lo step back e ti ha preso un casino di vita C'erco fastidioso basta no basta c'è il fuggitivo 333 335 un po' se l'è meritato e non vorrei dire però ce la fa salvarlo C'è un po' eh vabbè ok onore a umanità c'è un po' ma non con un po' 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 Non è un po' di acqua, ma non è un po' di acqua, ma non è vero. E' un po' di acqua, non ci sia costruito. Ah. 100万? È un talento o modello che stanno lavorando. È un po' di acqua. Oggi, acqua è un po' di acqua. Niente, niente, non preoccuparti. Sì. Sì, beh... È una spettazione. Sì, non... Sia una sauna. Sì, cosa stai? Sì, non è un po' più... Sì, non è un po' differente. Hai mai visto cosa? Eh? Ah, ah... Ma... Sì... Eh, eh, eh... Sì, non è vero. Mi conosco, non so che ci sono già? Che stranozza Sì E dove la trovo? Ok Pink street shine Ok Va bene ragazzi Io direi che anche per questo episodio è tutto Noi ci vediamo al prossimo Sempre qua sul mio canale Ciao a tutti Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi e lasciate un mi piace Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale Con il prossimo video Noi ci vediamo sempre Noi ci veurei